Benvenuti a questa spiegazione di esculting per Blender 2.90 Più o meno le cose sono rimaste identiche al passato l'interfaccia con Blender 2.9 è cambiata un pochino alcune cose sono sparite per chi conosceva già Blender e per chi arriva ci sono delle cose un po' migliorate la cosa più interessante è che possiamo scolpire quindi possiamo andare direttamente nel menu sculpting e diamo a sinistra una quantità che sta diventando sempre più impressionante di meccanismi di sculpting il problema è che con Blender appena si entra non si può scolpire tranquillamente perché occorre predisporre delle cose quindi il problema è che se io vado e cerco di scolpire non succede nulla vedete che abbiamo disegno, possiamo cambiare pennello, non funziona nulla e quindi siamo messi maluccio allora io in questo video vi faccio vedere alcune tecniche per poter scolpire partendo da una sfera più che non col cubo o anche dal cubo facciamo dal cubo che tanto è interessante vedete che se potessi scolpire effettivamente mi evidenzierebbe un punto in blu in questo caso però se usassi un altro pennello che ad esempio c'è il grab che è molto usato vedete che i punti che individua sono in giallo allora il problema fondamentale è che all'inizio un cubo ha soltanto 8 vertici e noi possiamo lavorare solo con gli 8 vertici mentre invece lo sculpting ama lavorare con tantissimi vertici e allora come si fa? allora ci sono un sacco di sistemi ma si può rifare la mesh e chiedere a lui di rifarla con le dimensioni dei punti piccola piacere ad esempio qui si può usare 0.01 che è molto fine e facendo questa opzione quindi si ricava una nuova mesh da quella che gli abbiamo dato e lui genera una nuova mesh che per vedere se l'ha fatto io suggerisco sempre di andare e mettere le statistiche e così vediamo che effettivamente siamo passati a una quantità di vertici molto alta faccio un undo delle cose ecco vedete all'inizio ero con 8 vertici ripeto per vederlo andate qua e prendete statistiche così avete le statistiche qua portate di mano 8 vertici se vogliamo fare una remesh 0.01 facciamo remesh e qui abbiamo 242.000 vertici ora quando i vertici cominciano ad essere un pochino di più diventa un pochino più semplice da far vedere come funziona quindi come funziona? disegna disegna allora disegna cosa vuol dire? che facciamo? vedete che facciamo un disegniamo sul mi fate un simboletto cioè un cerchio adesso abbiamo il disegna lo disegna a rilievo ma se noi lo premiamo il mi sembra il control ecco vedete che incide quindi la primissima lezione è che se usiamo lo strumento disegna o un altro otteniamo un certo effetto in modo tale che si ottene effettivamente le cose in rilievo tipicamente se invece premiamo control abbiamo l'effetto opposto quindi invece di scrivere in rilievo incidiamo e questo può essere interessante poi notate che quando io seleziono un punto in realtà ve ne fa vedere due perché? perché c'è una simmetria lungo la x vedete che noi abbiamo l'asse x che sarebbe questo e quindi abbiamo la simmetria qua che è lungo l'asse x e quindi lui simmetrizza se non ci piace la simmetria basta che andiamo qua e togliamo la x quindi a questo punto possiamo tranquillamente lavorare qua sopra quindi poter fare altre incisioni facciamo un'incisione qua sempre col disegno e facciamo il rilievo e vedete che questo rilievo che abbiamo fatto tra l'altro più ci passo e più lui si ingrandisce dall'altra parte non compare se invece rimettiamo la simmetria quella che abbiamo fatto non compare ma i nuovi le nuove sculture compaiono quindi se io disegno qua mi aspetto di vederlo anche dietro quindi lavorando con la simmetria in questo modo si ottengono vari effetti per il momento togliamo la simmetria ora voi dite io vorrei fare delle cose un pochino più definite come scultura proviamo a lavorare su quest'altra faccia più definite vuol dire che così è un pochino troppo grosso il solco che faccio e invece vorrei fare una cosa un pochino più più piccola allora per controllare questa cosa in realtà è il raggio che vedete che questo 20 e 50 pixel e noi possiamo ridurlo quindi il raggio si può ridurre o andando qua ad esempio mettendo 10 quindi se qui vado qua e metto 10 e ottengo praticamente vedete che l'incisione avviene la nostra scrittura è un pochino più definite rispetto a prima oppure in realtà abbiamo anche un altro strumento che è F se facciamo F possiamo ampliare o ridurre il raggio e mentre ampliamo vedete qui in alto a sinistra qua che compare praticamente l'indicazione di quanto è il raggio e se non vado errato se premo 5 lo porto a 5 e poi invio in questo caso e ho 5 quindi 5 praticamente abbiamo l'incisione a 5 poi abbiamo la forza che inizialmente è 0,5 ma io posso aumentare portare a 1 portare a 1 la forza vuol dire che è più deciso vedete che il taglio è più intenso quindi quando ero 0,5 faceva questo effetto facendo 1 ottiene un effetto più massivo stessa cosa abbiamo visto prima F per ampliare e ridurre lo schema c'è il pennello farlo più piccolo e più grosso e ESC per uscire facciamo mi sembra non ricordo mai se è ALT F no, è SHIFT F ecco SHIFT F indica quanto lo vogliamo intenso quindi se noi lo vogliamo appena appena leggero ad esempio 0,2 quasi a questo punto vedete che si vede pochissimo quindi facciamo F facciamo un po' più grosso vedete che ha un effetto minuscolo infatti serve proprio per fare dei ritocchi ora un'altra cosa che di solito c'è in tutte le quindi qui adesso la forza la mettiamo al 0,5 più o meno e il raggio adesso è 31 pixel quindi vedete che sta scrivendo così e proviamo ancora a vedere che se abbiamo fatto un errore quindi se abbiamo fatto una cosa che non ci piace basta fare CTRL Z però in realtà se abbiamo fatto una cosa e soltanto alcuni pezzi di questa cosa non ci piacciono ad esempio se questo è un piccolo errore dovrebbe essere possibile premere la shift e si ottiene non è una cancellino ma una specie di smooter cioè praticamente smooter perché praticamente permette di rendere un po' più morbido il tratto quindi chi sa dipingere praticamente spesso cioè chi sa scolpire spesso di solito usa un pennello che in questo caso come vedete abbiamo usato il pennello questo eventualmente ci passa sopra un tot di volte per fare l'effetto che vuole quindi fa l'effetto e poi eventualmente certi pezzi che sono sembrano brutti con shift li smussa un po' e anche qua il quantitativo di smussamento dipende dalla dalla forza e intensità allora chi sa scolpire di solito usa forze soprattutto la forza la usa abbastanza bassa in modo tale da poter poter ottenere una forza più alta passando più volte come se avessimo veramente una penna sotto il sotto il mouse quindi avere effetto di penna quindi vedete che abbiamo già ottenuto un lavoro un pochino più intenso quindi rispetto a 0 siamo a posto poi andiamo su un'altra faccia e proviamo adesso a sperimentare brevemente alcuni pennelli allora questo abbiamo detto quindi prendiamo un raggio piccoletto questo qui è il disegna a intensità 0,5 magari facciamo così ctrl z mettiamoci la forza massima così vedete l'impatto massimo di questo pennello e proviamo a vedere gli altri pennelli allora l'altro pennello questo vedete ecco questo qui è una sorta di incisione quindi fa se faccio col control in teoria dovrei avere l'opposto vedete che ha un effetto simile al disegno ma molto più incisivo cioè che praticamente incido come se avessi una specie di scalpello quindi lo facciamo facciamo così quindi col disegna abbiamo detto otteniamo questo effetto col draw sharp questo che tra l'altro magari ci mettiamo in italiano che ho indicato ah no lingua è già italiana leggermente eccetera eccetera quindi in realtà rimane così pazienza comunque draw sharp cioè disegna in maniera molto incisiva clay fa questo effetto che è un pochino più delicato nel senso che vedete che abbiamo visto che il disegna fa proprio un tratto il clay invece mette una specie di banda di di qualcosa che mettiamolo così quindi è un pochino meno aggressivo nel senso vedete lo vediamo sullo sfondo cambia un po' la curva questo qui è il draw e questo qui è il clay il clay è praticamente più morbido clay strip credo che faccia ecco vedete fa proprio delle strisce delle strisce che sembrano ecco queste qui sono difficilotte da da fare a mano esattamente però danno un bel effetto per incidere per avere degli effetti poi ci sono anche altri effetti clay tomb che fa una cosa cioè fa un po' il contrario del clay quindi che lo va in incisione questo qui è il livello che fa proprio una striscia ancora molto più definita ecco inflate questa qui è una qualche cosa che teoricamente serve per gonfiare un po' ecco questo l'effetto si vede pochino però molte di queste cose si possono applicare sui bordi in oggetto per dargli quindi inflate e lo gonfia un po' forse se facciamo F e lo facciamo più grosso si può vedere un po' di più vedete che gonfia un po' la parte che che sto da un po' l'effetto che potrebbe avere il legno ad esempio se viene inumidito quindi con l'acqua praticamente gonfia quindi questi sono tutta una serie di cose che possiamo fare e spesso si fanno per ottenere degli effetti diciamo non proprio dritti cioè non proprio blob è un altro pennello che crea praticamente che gonfia un po' un po' di più insomma in realtà è un rigonfiamento un po' più massiccio piega che credo che sia crease dovrebbe essere una cosa simile a questa vediamo un po' ah no aspetta ah no piega vuol dire che avvicina praticamente le aree quindi ad esempio se io ho questa zona qua e mi sembra troppo lontane faccio così e lui piega un po' il tessuto per avvicinarle quindi per ottenere praticamente questi effetti che sono un po' tessutici leviga era un po' l'effetto che abbiamo visto prima che è quello che che era l'effetto dello shift che è applicato praticamente su una zona vedete che lo rende più morbida quindi serve per morbidire delle cose che magari ci sono scappate quindi ed è il famoso il famoso effetto che otteniamo anche in qualunque altro pennello premendo lo shift poi appiattisci è una cosa un po' cioè rende abbastanza piatta una zona quindi cerca un punto di equilibrio e cerca di rendere fa una sorta di penura se voi immaginate che questo sia un terreno questo lo fa più o meno uniforme a volte non è facilissimo riempi è un credo che che cerchi di riempire ecco vedete che riempie i buchi no? cioè i buchi dove ho lavorato e quindi alla fine fa un effetto riempimento scrape questo visto che cancella nel senso che va a creare delle incisioni magari facciamo un pochino più ecco crea delle ho visto che praticamente è un po' il contrario del rigonfiamento nel senso che scava un po' e comunque genera praticamente ecco vedete scrape è come se togliesse un po' un po' di cose in realtà probabilmente molti di questi pennelli sono 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 gli stessi di altri eventualmente ottenibili dagli altri in realtà poi alla fine non è detto che voi dovete imparare tutti i pennelli i più esperti ne usano solo due o tre i pennelli e per esempio usano invece oltre a i pennelli che abbiamo visto adesso ad esempio usano uno un po' abbastanza utile e questo qui il grab e il grab praticamente permette di a seconda della sua intensità è secondo me uno dei pennelli più utili secondo me perché permette di spostare e adattare intere sezioni quindi più grande e più a effetto quindi praticamente è giusta dei pezzi del vostro della vostra scultura quindi permette praticamente di di manipolare la scultura proprio ecco questo secondo me è proprio l'effetto che si avrebbe col pongo quindi vedete che posso 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 praticamente lavorare con questo cubo come se fosse pongo poi più e più ognuno di questi pennelli agisce anche adesso qui vedete che è voluto forse troppo quindi uso shift nel tentativo di renderlo meno esplicito e così via non so ne salto parecchi perché alcuni sono sofisticatissimo snake hook crea proprio una specie di corno quindi praticamente esco fuori vedete che adesso l'ha fatto troppo quindi facciamo troppo piccolo quindi facciamo un po' grosso quindi vedete che posso uscire e lui genera praticamente delle specie di corni questi possono essere utili per estrudere cose tipo capelli e poi f ok ora una cosa importante quando fate poi tutte queste cose è che la struttura mesh viene alterata e spesso come vedete qua ad esempio usando soprattutto questi qua questi gialli succedono delle cose brutte tipo qua vedete che c'è queste parti nere che vuol dire che non è ben fatta allora in questi casi conviene ricavare di nuovo la mesh quindi si fa una remesh e questa operazione praticamente spesso non sempre ripulisce le cose se rimangono delle cose ancora un pochino opache andiamo con il come si chiama il leviga credo e magari ecco praticamente vedete che andate nei punti che vi sembra che siano rimasti bruttini con un pennellino di leviga e andate ad aggiustarli per ottenere la scultura che vi sembra adeguata ora prima di uscire da questo piccolo primo esempio di sculping vedete che siamo già riusciti ad ottenere una scultura stratta non male bisogna avere molta pazienza perché queste cose sono brutte da vedere poi quando vedete queste sono delle piegature eccessive quindi bisogna sempre aggiustare i vostri sculpting soprattutto se sono di questo tipo però vedete che abbiamo 447.000 vertici che se doveste prendere questa scultura e portarvela in open sim il risultato sarebbe di appesantire moltissimo la vostra la vostra sim quindi il consiglio è quello di una volta che andiamo in modalità oggetto qui andiamo in modalità in modificatori aggiungiamo un modificatore importantissimo che è la decimazione la decimazione prende il vostro sculpted il vostro oggetto sculptato e poi qui potete dire ad esempio se voi siete 447.000 vertici ma voi avete un vincolo di poter mettere soltanto 4400 quindi dividere per 100 qui dovete mettere 0.01 ad esempio e provare a fare tab ad esempio quindi ottenere il ricalcolo dunque lui ci impiega un po' e vedete che vi ha ridotto il vostro oggetto a solo 4480 vertici e tutto sommato la resa è ancora buona anzi vi dirò di più che se mettiamo la modalità levigata io ho detto ma non mi ascolta probabilmente ok l'ha messa ottenete un effetto che è praticamente indistinguibile dall'oggetto originale che avevate fatto ora applichiamo la decimazione quindi applica controlla ok quando si fanno queste cose ok si si impiega un po' di tempo però adesso di fatto abbiamo un cubo scolpito che ha una quantità di vertici decisamente interessanti ok qui un'altra così potrebbe già andare bene per essere portato in in open sim fate attenzione ancora che c'era un'opzione per vedere l'orientamento facce ok vi ha fatto vedere eva quindi se tutto blu vuol dire che dovrebbe andare bene in open sim non vi faccio vedere l'importo su open sim per semplicità ok e nel caso che vorreste che le faccia sono 4480 fossero un po' più dritte cosa che di solito a volte si preferisce esiste un altro un altro modificatore che dovrebbe essere un adesso lo trovo non è la decimazione ok il modificatore si chiama ricava nuova mesh e questo ricava nuova mesh funziona più o meno come quello che avevamo visto prima però ovviamente non dovete mettere 0,01 perché potrebbe darvi un risultato cioè vi riporta ad avere i vertici di prima quindi proviamo a mettere vediamo un po' ecco vedete che se mettiamo il se clicco qua mi fa vedere il modo in cui modifica la mesh averlo messo a 0,1 metri no? la cosa e se se io provo applicarlo questo remesh quindi faccio applica adesso sono rimasto sempre a 4.418 quindi voi dite è abbastanza uguale all'altro però osservate che ho i vertici sono messi in maniera molto più omogenea rispetto alla versione prima quindi tutto questo discorso per dirvi che quando lavoro con i sculpted genero inevitabilmente una quantità incredibile di vertici e poi questi vertici li devo un po' ridurre notate che però la riduzione in questo caso ha ridotto anche il quindi torniamo un attimo indietro ecco vedete che in realtà remesh ci ha cancellato questi effetti che abbiamo visto qua quindi in questo caso francamente il fatto di avere il remesh tutto bellino non è però aver cancellato le sculture che ho fatto che magari queste erano delle scritte potrebbe non essere la cosa ideale allora questo è tutto come primissima introduzione allo sculpt il prossimo video cercheremo di dedicarlo a un'applicazione un pochino più pratica come ad esempio fare una specie di banda che avvolge un oggetto cioè quindi che può essere utile per fare abiti e cose simili per il momento vi ringrazio e tutto